Musica Conoscete pressa poco l'iniziativa che nasce non così, non cade dal cielo improvvisamente perché allo Sanfano a Firenze si è messa sulla scia di un'abitudine che si è affermata nel corso di tanti anni di una parte di generazione della Federazione Giovanile Comunista in particolare quella degli anni 80 forse o di più che si ritrovava e ha dato vita ad alcuni importanti appuntamenti di confronto, di discussione diciamo che sono stati prima a Modena, poi a Roma, poi a Napoli e poi a Palermo a Cinisi in verità, cioè più vicino a Palermo e allo Sanfano si inserisce su questa scia di incontri e introduce due elementi nuovi il fatto di aggiungere una generazione precedente agli anni 80 alla generazione degli anni 70 soprattutto dal 75 in poi e poi il tentativo è quello di valorizzare ed evidenziare come nella storia politica, sociale, diciamo di presenza nella società della Federazione Giovanile Comunista c'è stata una generazione di dirigenti femminili, di donne dirigenti che ha avuto un ruolo importante nella storia della FIGC e poi ha avuto anche un ruolo successivamente come è successo a molti dirigenti della FIGC ha avuto un ruolo nella vita politica, nella vita istituzionale delle città e nel nostro paese quindi questo è l'elemento più specifico di Allo Sanfano rispetto ai precedenti incontri e naturalmente però la spinta, la scintilla di Allo Sanfano è comunque comune agli altri incontri che era la voglia di ritrovarsi cioè di ritrovarsi, secondo me già questo è il primo valore politico cioè ritrovarsi, riconoscersi tenendo conto che già in FIGC, nelle varie, già le FIGC sono state diverse all'interno delle FIGC eravamo tutti, diciamo c'era un dibattito aperto cioè non eravamo mica tutti uguali quindi avevamo a che fare con una diversità delle posizioni in un confronto politico però diciamo tutti insieme abbiamo fatto parte pur nelle specifiche esperienze delle singole FIGC che hanno risentito poi dei vari contesti tutti insieme abbiamo fatto parte di quella che si può dire siamo stati partecipi di una bellissima esperienza politica perché le reazioni a questo tipo di incontro possono essere due possono essere tante ma insomma ora in questa società dove ci si polarizza quasi cerca di sintetizzare da una parte quella è di idealizzare quei momenti anche perché partiamo da una situazione odierna della politica che non è che diciamo che si sentiamo molto adeguata quindi da una parte di idealizzarlo non fosse altro perché eravamo tutti molto più giovani e già questo è dall'altra invece c'è anche una sorta di rigetto di presa di distanze anche perché queste nostre generazioni questi nostri giovani che poi come tutti noi non sono più giovani hanno seguito percorsi pur nascendo da una scintilla comune hanno seguito percorsi politici molto diversi quindi c'è un tratto comune ma sul tratto comune c'è anche ci sono diversità e noi cerchiamo di respingere questi opposti dogmatismi quello di idealizzare e quello di abbiurare ma di cercare di avvicinarsi a questa esperienza anche riprendendo nel tratto diciamo di umano di esperienza umana relazionale dove sono nati tante relazioni anche umane ci siamo divertiti come ha scritto Gloria ecco come ha scritto Gloria alla fine della sua intervista ci ha ricordato a tutti che in fondo ci siamo anche molto divertiti sono nati tanti amori sono nati amicizie io e Gloria siamo amiche da quel momento lì ed è stata un'amicizia che con la politica quindi ci sono state cose che hanno un grande significato però quindi recuperare questa dimensione sapendo che davanti a noi anche il 10 ci saranno persone e compagni che hanno bisogni diversi ciascuno la vivrà a modo suo e depositerà questa esperienza che faremo nei modi che crederà nei luoghi che crederà più opportuni perché appunto il tema delle differenze è un tema importante però qual è l'elemento che noi vogliamo valorizzare che essere come dire differente avere posizione non è solo una frammentazione distruttiva è anche un modo ricco di vivere un'esperienza politica che non può essere omologata portata sempre ad una sintesi unitaria che include i fedeli ed esclude chi invece non si sente riconosciuto quindi già questo io la vivo così vivo questo momento come un momento di ritrovamento di ci ritroviamo attraverso tante emozioni attraverso questa esperienza comune che è stata bella ma che vede anche percorsi percorsi differenti e naturalmente siccome discuteremo probabilmente di questi punti di vista differenti terremo conto verranno 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 poi c'è un altro tema che secondo me bisognerebbe riuscire se ce la facciamo a mettere a terra come potremmo dire che questa esperienza delle FIGC non sono ancora studiate adeguatamente e se noi sollecitiamo questo proposito di ricostruzione anche storica di queste di questa esperienza secondo me è un fatto positivo naturalmente giocando su questo dialogo questo questo rapporto tra memoria e storia che sono due cose la memoria noi la possiamo agire ancora e però poi c'è anche il momento della ricerca storica che non che si alimenta della memoria ma che non si schiaccia sulla memoria non si limita alla memoria quindi se riuscissimo da questi momenti a sollecitare una ricostruzione uno studio di quegli anni di anni di un'esperienza che ancora non è stata studiata che ha una memoria che ha ancora come dire un panorama un po' frammentato già per esempio la piccola cosa che stiamo piccola grande cosa che stiamo facendo con il sito di raccogliere di raccogliere lì tutto il materiale che possiamo ritrovare oltre che raccogliere anche testimonianze il dibattito che si sta svolgendo importante attraverso l'unità che vi prego di seguire perché mi sembra un contributo serio anche alla discussione che faremo e che non finirà poi il 10 ecco credo che anche questo sia importante quindi ritrovarsi sollecitare una memoria collettiva e come spronare una ricerca storica ecco di quel periodo poi secondo me poi cercare di nei modi sempre nei modi che è più proprio a ciascuno di noi rispondere a quell'appello che faceva Pietro nell'intervista all'unità insomma diamoci una sveglia ecco insomma sono momenti in cui c'è bisogno di una sveglia io qui non sto a ripetere le tante cose che abbiamo vi prego anche di risentire e guardare anche le interviste di Gloria Buffo di Marco Fumagalli di Pietro poi Pietro parlerà e qui di Giulia Rodano ce ne saranno altre quindi i temi sono squadernati li viviamo tutti i giorni questo mondo che è sull'orlo di una di una fine cioè di un cataclisma che non riesce attraverso la grande questione ambientale che tra l'altro come FGC avevamo anticipato no? nella sordità tra virgolette ma insomma con il partito questo mondo che è sull'orlo di un abisso tanto per essere un po' grossi e sintetici ma che l'unica che accetta di essere questo abisso è colpa anche diciamo di un certo tipo di capitalismo predatorio rispetto all'ambiente e però non si riesce nemmeno a citare cioè si può pensare che il mondo può finire ma non si può mettere a fuoco che è il capitalismo che deve morire e che deve essere superato è più facile pensare che il mondo possa implodere in un disequilibrio globale ma questa sioma per cui solo il capitalismo è l'unico ordine esistente accettato non viene messo in discussione e qui dobbiamo recuperare della FGC di quei periodi sempre nelle diversità ma questa visione critica che c'era che era molto forte magari quel tipo di lettura non è più sufficiente va riportata attraverso le contraddizioni esplosive di oggi il tema della digitalizzazione temi che aprono l'intelligenza artificiale cioè problemi nuovi però quello spirito critico quello che la FGC aveva insomma in qualche modo deve essere rimesso in moto e poi la pace il fatto che oramai si accetti l'idea che tutti i conflitti si risolvono con la guerra che la politica non registra i rapporti di forza e accetta che insomma c'è quella che dovrebbe essere un tabù dopo quel dopo quando dopo le guerre l'ultima guerra mondiale quando abbiamo detto quel mai più e poi invece quel mai più è un mai più relativo perché ancora non è mai più perché vediamo quello che succede nel mondo con le guerre con la guerra globale e purtroppo vediamo quello che avviene in Medio Oriente con Gaza quello che succede a Gaza e poi insomma questa sveglia ce la dobbiamo dare anche in Italia io credo dato che ora io parlo su questo dico l'ultima cosa cioè noi partiamo dall'ultimo provvedimento approvato al Senato ora con l'autonomia differenziata ma è possibile che non ci sia una sveglia diciamo una sveglia collettiva democratica di sinistra perché poi ma anche democratica di tutte le diciamo le culture positive che hanno contribuito alla nascita della Repubblica e non vederne i pericoli il PD sta parlando solo di candidature di congressi che devono essere ho letto di recente che i giovani hanno fatto una grande manifestazione per il congresso cioè non c'è stata un'iniziativa sulla pace non ho visto io può darsi che sia assolutamente ignorata io sono una che è arrivata al PD quindi io non sono entrata nel PD ma io sostengo Elish Lailen quindi togliamoci dal apro questa parentesi e la chiudo quindi non ne faccio una questione mia ma è possibile che il maggiore partito della sinistra dell'opposizione discuta di questo di fronte a tutto quello che succede quindi per questo recupero nella nostra diversità l'idea di una sveglia tra l'altro anche qui in Toscana non a Firenze anche dato che è più vicino ma in Toscana dove c'è un patrimonio che è diventato dannazia memoria cioè non ecco allora io credo che questa sveglia noi la dobbiamo dare anche recuperando con intelligenza senza reducismo un'esperienza ma cercando di vedere quei semi di iniziativa politica di lotta politica che sono fondamentali lotta politica che noi abbiamo imparato ad essere unitaria e questo deve essere importante si cita gli intillimani gli intillimani con il Pueblo Unido Hamas Ravensido ci ricorda quell'emozione ma guardate che questa piccola diciamo affermazione questo questo concetto vale oggi se il campo di progressista non trova nella sua diversità una capacità di mediazione di mediazione di confronto e quindi intanto elevare la discussione poi di mediazione io credo non c'è non ci sia la possibilità di sconfiggere queste destre e ritorno a bomba sul fatto di quanto sia pericoloso questo disegno di legge che porta avanti l'idea secessionista della Lega e che si è che è in un connubio con il presidenzialismo monarchico della famosa riforma madre del premerato assoluto della Meloni non sono cose distinte che una contraddice l'altra ma sono cose che si tengono è una doppietta pericolosa che mette in discussione le basi antifasciste della nostra repubblica e io non capisco perché di fronte a questo evidente insidiosissimo perché che sia insidioso lo dobbiamo vedere dista i dati di disaffezione alla politica che stanno emergendo attraverso semplicemente la mancanza del voto cioè di non andare a votare che segna io non capisco come non si riesca a dare ad avere questa questo senso del pericolo e quindi di elevare la lotta la battaglia politica a questo livello quindi anche questo dovrebbe servire con lo spirito unitario senza cercare di fare delle sintesi impossibili però di trovare come dire quella quella spinta che noi abbiamo detto quella spinta che voleva cambiare il mondo intanto quella spinta per oggi ritrovare un ambito comune per sconfiggere culturalmente politicamente le destre che ci governano per la sconfiggere per la sconfiggere per la sconfiggere per la sconfiggere